Devo dire, secondo la nostra esperienza, a partire dalla conferenza di Facebook che ha introdotto una serie di funzionalità e di framework che facevano, diciamo, sia codavola, quelle che erano già presenti per altre piattaforme tipo Telegram e che ha dato un po' il via, secondo me, a un'apice di hype attorno alla tematica dell'intesa artificiale applicata alle interfacce conversazionali e a pubblicio. Quindi, in pratica, ho un attimo ripensato a quello che è oggi la narrazione rispetto all'automazione, rispetto all'AI e rispetto anche alle tematiche sociali che sono connesse, quindi alla prospettiva di un'accelerazione, in questo senso, abbiamo visto gli interventi attorno alla tematica della machine learning. In qualche modo, qualcuno che mi ha detto è un po' la ridigita di Clipi. Clipi era, in un certo senso, uno dei primi, creavano il chatbock, nell'immaginario collettivo anni 90, tentativo assolutamente maldestro di Microsoft, assieme ad altri, a mio parere, in quel periodo, di proporre un'aiutante che, ovviamente, non in modalità online ma offline, ti aiutava a utilizzare le varie versioni di Windows a tempo. Fu un flop clamoroso e per vent'anni circa non si è più parlato di aiutanti virtuali. Adesso, un po' come la realtà virtuale, che torna per la terza volta, si dice che è la volta buona. E la volta buona ci sono, ovviamente, molti dati a sostegno di questo, e volevo capire un attimo come oggi, in realtà, in ciabola, a dirà delle visualizzazioni di comodo, stanno emergendo. Intanto, diciamo che uno dei settori dove diamo per scontato questo tipo di algoritmi è quello della documentica, quindi della gestione automatica degli occupanti. Il fatto che si usi un'eboza anche per filtrare, ad esempio, un ritro di lavoro, o il fatto che si usi un'application, come Uber, per esempio, per Lastron, ci sono tantissime, che vanno a ottimizzare, in un certo senso, a ordinare un numero crescente di lavoratori. Ci sono previsioni che, nel 2020, questa parte di gestione autonoma da generare già un interato, per esempio, il finance, prevede un 5% di internazioni, per esempio, si viene autonomia dalle macchine, eccetera, eccetera. Diciamo che sono nate anche delle valutazioni, per quelli che saranno i lavori del futuro, destinati ad essere rimpiazzati, quindi si è creato questo termine, Billow API, Billow API, perché sono le funzioni che rimarranno di sopra dell'area gialla, anche dentro le prossime decade, a carico del personale umano, mentre i loro API sono quelli che saranno sostituiti dai chatbot dell'autopazione. I Billow API sono quelli che rimarranno, diciamo, patrimonio del talento umano, in private delle nicchie, come una persona seniorica, una creatività, oppure sul fatto stesso di essere uno sviluppatore di bot, un esploratore di nicchie, un volante, un innovatore, eccetera. Queste nicchie, chiaramente, vanno a collocarsi nella parte superiore di questo grafico e la parte inferiore, diciamo, a vari step, assisteremo a dei processi di automazione. Questo è per lo meno lo scenario in cui ci muoviamo. Quello che in realtà stiamo vedendo è che l'automazione in particolare l'intensità artificiale sta arrivando dove forse non ce lo chiamavano. Innanzitutto in modo molto sotto traccia degli algoritmi, ad esempio come quello di Google, si calma che un 15% dell'algoritmo, di alcuni punti, è in utilizza dell'intensità artificiale, ad esempio per la visualizzazione delle pagine in base alle quali precedenti. Questo, diciamo, credo, sia il terzo o il quarto fattore per il ranking di Google. Oppure, ancora più semplice, per le recommendations, per le recommendations in qualche modo utilizzano le data e i processi di machine learning. Quindi, in machine learning, abbiamo l'algoritmo, il software, la macchina che impara attraverso, a volte, anche una forza brutta del calcolo e la disponibilità in linea di dati, di una grande quantità di dati, senza un'indicazione diretta e non impara da sola e non dal programmatore, quindi non in base all'algoritmo e alla programmazione tradizionale. Questi, diciamo, sono esempi non molto effettanti che nella vita di tutti i giorni diciamo, rispondiamo sempre, siccome, in fondo, le aspettative oggi sono state singolari. In altre epoche si immaginava che l'anno 9000 della situazione l'intensità artificiale avrebbe avuto l'interfaccia di un certo punto. Oggi, in un certo senso, la prima interfaccia che ci permette di famiglianizzare con l'intervista edificare con il chatbot, un'interfaccia testuale, un'interfaccia lean, un'interfaccia che, infatti, utilizza come media principale il chatbot. Adesso c'è da fare un po' una considerazione rispetto al modo in cui il chatbot, secondo me, in questi ultimi anni sono anche presentati in termini di serie alla cliente, per lo meno come abbiamo fatto noi. Basandosi anche sulle ricerche, la cosa che emerge è che la maggior parte dei consumatori dopo ovviamente l'incontro face-to-face con il customer care preferisce una modalità come quella della chat, intanto perché già la uso normalmente. Sappiamo che WhatsApp in questo momento per ragioni strategiche di Facebook non ha abilitato delle API che consentano di sensibilizzare. Sarebbe ovviamente la cosa più ospaticabile. però su Messenger, su Telegram sì. E questa modalità rapida, semplice è quella che è preferita da un numero crescente di utilizzatori. Soprattutto perché il vantaggio è quello di avere una risposta in tempo reale. Una delle modalità dei trucchetti di accounting più semplici che abbiamo scoperto in questi mesi quando ci presentiamo un cliente a dire io sono stato sulla tua pagina Facebook dove magari hai investito in passato, hai delle campagne di contenuti importanti eccetera eccetera però ti ho mandato un messaggio e tu mi hai risposto mi hai risposto sei giorni dopo una settimana dopo anche 12 ore dopo non è il massimo per un'altra questa cosa diciamo dicevo il concorrente che è stato questo diciamo ha un impatto psicologico abbastanza immediato e ha a che fare francamente più che con i chat con la scelta del canale i canali sono le chat oggi sappiamo che la diffusione la crescita delle chat da partire da un modello che non è europeo ma è quello di WeChat che è questa chat molto diffusa in Cina che permette di fare praticamente tutto e-commerce games ovviamente comunicazione eccetera che è quello su cui in parte si sta ripetizionando da un anno i Facebook messaggi questo modello diciamo è in crescita molto più rapida rispetto ai social network cioè quegli ambienti che sono nati praticamente sul desktop e come sono nati con una logica che non è quella della comunicazione veloce instantanea inizialmente testuale poi sempre più ovviamente con le immagini quindi laddove entriamo in quest'ottica che è un'ottica di quella che noi vogliamo attraverso Whatsapp per la maggior parte di noi vogliamo delle risposte veloci e già guardano questo pregio sicuramente non è l'intelligenza non è la capacità di riconoscere immediatamente il cliente dopo vedremo anche che limitazioni ci sono al contorno ma è l'attuato di permettere di rispondere in tempo reale di presidiare un canale di customer carla dove ormai il canale di contatto tra il brand e la sua audience sceglie il consumatore e non c'è un problema qua abbiamo un po' di statistiche rispetto alle preferenze però diciamo una cosa che focalizza il valore aggiunto dei chatbot oggi è risposte veloci e domande semplici se si va sul complesso sicuramente è meglio scalare all'operatore umano se non c'è bisogno di una risposta veloce probabilmente forse il benefit percepito dal cliente la cosa interessante che è messa è che benché ovviamente si è stressato il concetto che le chatbot sono una modalità è un canale preferito dai millenni eccetera in realtà ve lo vediamo oggi con Whatsapp questa trasversalità porta a preferire a farci anche i sospettabili i baby boomer che preferiscono non prendere tempo se interpellano un servizio o un canale eccetera ovviamente è trasversale potenzialmente anche al genere adesso vado un po' sul veloce ma sostanzialmente i chatbot sono un tool conversazionale un marketing tool conversazionale in grado di autogare con l'utente da una piattaforma di messaggistica come Facebook Messenger o WeChat che sono due maggiori piattaforme di chat di nuovo in pratica se dobbiamo raccontarlo spesso con un assistente virtuale alle prime anni che poi vale la meno tempo questa situazione diciamo è legata a quella che abbiamo detto prima al fatto una crescita molto più rapida oggi che ci stiamo nelle mobile chat si presuppone che nel 2019 secondo la ricerca il 65% delle persone quindi oggi calcoliamo che 2 miliardi mi pare utilizzano assaggiare me quindi circa 30-50 65% userà almeno un servizio di chat entro due anni l'altro cosa interessante dei chat che anche questo ha poco a che fare con l'intelligenza artificiale è che di fatto sono delle micro applicazioni tipicamente noi abbiamo assaggito pogliamo anzi adesso il 19 anniversario degli app store abbiamo diciamo vissuto una decena di segna dell'app economy tipicamente un nuovo servizio una start up parte oggi con l'applicazione Android di un'applicazione Alpha ci sono dei costi di marketing che però oggi rendono la barriera di ingresso in questo mercato sempre più elevata cioè se faccio un'applicazione per i miei dipendenti è un conto per cui mi guarda la scarica se invece vado su B2C cose di marketing per catturare l'attenzione a livello dei canali di advertising mandarlo sulla store convincere a scaricarlo installarlo per magari tornarci sono veramente elevati soprattutto se siamo sull'ambito dell'application e non dei giorni stati mi dico che sostanzialmente per raggiungere l'undicesimo o l'odicesimo app è sempre più rispetto all'entusiasmo in cui scaricavava e accenderevamo l'applicazione passata anche perché lo spazio sul cellulare è comunque limitato ma le abitudini si stanno funzionando per ogni quindi la possibilità di offrire le micro-applicazioni dentro all'applicazione madre che già usiamo come messaggio è un vantaggio enorme in termini di fatto basta una semplice ok allo start del chat e comincia un dialogo autorizzato al cliente per mission marketing non è invasivo però poi inizia una modalità push che è assolutamente paragonabile a quella ad esempio delle notifiche quando dobbiamo raggiungere un nostro vittore un nostro cliente in questo senso sicuramente l'applicazione di maggior successo di chatbot in questo momento e lo dico anche perché l'abbiamo sottovalutato inizialmente è quella di tipo editoriale non solo media tradizionale come terriere di pubblica eccetera ma anche chiunque abbia un sito di contenuti una pagina importante oggi ha abilitato chatbot che permette di ricevere delle news profilate per interesse come il canale sport esattamente come una newsletter di abilitare una frequenza due volte al giorno una volta al giorno eccetera e soprattutto di ricavare dei dati di interazione molto molto interessanti matchabili con il grafo di campagna e del pannefetto questo è stata sicuramente l'applicazione più importante in questo punto è la prezzata perché che va a coprire e a migliorare quella che è stata l'esperienza di operare con la newsletter di mail con delle mail che definiscono identificabili enormemente superiore questo è sempre il problema della loyalty del familiarizzare con l'abitudine però anche i nostri colleghi concorrenti 20 anni fa dell'oepo non c'era poco nulla ma tutti cliccavano ovviamente abbiamo detto noi partiamo della nostra applicazione che siamo H24 quindi battendo il concetto carbole della availability all always on è una soluzione che poi può essere deliberata su vari canali anche se in Italia sicuramente a messenger e molte spagne al di sopra via poi slack invece è così importante abbiamo creato un'architettura con la conversation engine che è in grado di riconoscere necessariamente delle keyword abbiamo anche delle tools che ci hanno permesso di esempio di automatizzare il processo di creazione delle keyword delle parole chiave che poi vengono riconosciute nel chatbot e siamo nel ecosystem il sistema chatbot di appoggio all'e-commerce un e-commerce un negozio online ha tipicamente circa migliaia di prodotti famiglia di prodotti che poi devono diventare keyword conversazionali perché si possa fare anche una semplice e quale nel tutto toglie delle scarpe e di pelle abbiamo prelegato una semantica booleana che quindi permette di utilizzare le keyword in modo esclusivo e inclusivo abbiamo cercato di stressare molto questo concetto più euristico e pragmatico di shampoo rispetto a sistemi di natural language processing che diciamo sul medio lungo termine danno sicuramente risultati migliori però richiedono periodo di training in alcuni mesi e senza necessariamente arrivare a un livello di invito che poi si rispetta utente molto meglio ovviamente presentare quello che è per un assistente un posto piloto simpatico in grado trovi da subito e a tutti le informazioni di base senza entrerci in coda eccetera questo diciamo va un po' anche a colmare di customer strada adesso come la che è la frequenza di customer question servizional servizional le aree applicative principali che abbiamo comunicato sono quelle di appoggio al e-commerce e sell automation come abbiamo detto ovviamente customer service e tra queste sono in questo content distribution quindi diciamo editorial e profilazione la quarta che sinceramente abbiamo verticato meno è quella di inglese di verità però sappiamo che noi possiamo creare dei giochi è una delle funzionalità che si è già risponduta in Facebook quest'anno c'era 8 mesi fa su Messenger e che possono in futuro creare delle registrazioni queste sono pagine di esempio tratte dalla nostra che è in sebrale 24 e-commerce nel caso del customer service la nostra esperienza abbiamo approcciato dei clienti diciamo che non sono necessariamente le PMI che avevano quindi in casa una realtà e dei sistemi dall'IRP alla customer service significativa e quindi puntavano integrazioni quindi a differenza della PMI o della botella che erano iniziati dalla possibilità di rispondere immediatamente siccome in modo alimentare una richiesta indiente qua la cosa importante è l'opposito sul fatto che a un certo punto si tiravano da parte e veniva scalata la richiesta di risposta di risposta esatto stiamo testando secondo me in modo molto embrionale quella che dal punto di vista dei provider di customer service sono diciamo una nuova foglia un nuovo modulo che va a automatizzare un processo a valle dell'opposito questo abbiamo detto è sicuramente stato il modulo di maggior successo questo va a dimostrare anche secondo me di impostazione di piattaforme gratuite come si traccia a fuori da tutte le persone che sono create in particolare sia globali e di nave in India per creare gratuitamente una specie di wordpress di chat sicuramente oggi anche chi ha blog una delle strumenti in considerazione la possibilità di sviluppare un fatto di un'attività che è caribabile del fatto anche meglio su a livello engagement noi è un settore che non abbiamo sviluppato però abbiamo visto applicazioni interessanti da applicazioni di medio che non permettevano solo di dire vabbè il tempo a me l'arma diciamo magari è una molto carina che per una ha cercato di applicare anche l'oroscopo come evoluzione del servizio un'altra che ha pensato si bene non è in particolare che ti permetteva di applicare dei filtri alla tua immagine la tua avatar una foto quasi di in via ma questo in fondo non è molto qualitativo rispetto a quello che fanno oggi Snapchat diciamo messager con i filtri rivolti ma farvi vedere assolutamente una chat diciamo è una funzione per l'istante ho parlato di bot che hanno milioni di di iscritti e le casistiche sicuramente interessanti a livello di questo diciamo va bene ovviamente una piattaforma che noi utilizziamo per andare che permette gli analytics di essere interfacciata per esempio le API se uno volete grava proprio questa integration è la nostra esperienza siamo partiti studi diciamo abbiamo le API sono molto lì però non è onestamente stata un'unico c'è stata richiesta per questo riassunto in pratica il benefit della perlomeno nella relazione spizzola che noi stiamo verificando sul campo il campo sono tool di customer service o le zone possono essere un negozio che aggiunge cliente direttamente nella chat dove è normalmente senza necessariamente rinnovare su sito di commerce l'application l'application eccetera o perlomeno sviluppare un pre-sales e poi finalizzare l'innovamento diventa un canale di una strategia a stia regola o a molti canali a vantaggio di messa in gradimento crescente soprattutto laddove si tratta di dare una risposta rapida e breve su questioni semplici ma di riniti in particolare ovviamente all'affare giovanile e pubblico permette di sviluppare una strategia di noi anche nel tempo e comunque permette di raggiungere l'utente in modo che è un bettigio che vedete che ad esempio riesco a sentire che non in modo di fare a soddisfare credo fosse l'ultima slide queste sono un po' tecniche io adesso se ti pensate possiamo vedere a fare una di però mi intenziava magari più a visitare delle domande se c'è la parte vostra in tal caso passiamo nel go in tal caso di chat potremmo in tal caso di installeremo il chat word nel sito come chiamo il quotidiano online eccetera che ti suggerisce un treat delle notizie trovate in modo continuo con le sue in tal caso di se chiudere sotto l'intensione di tipo di soldi allora il tema era come viene profilato per i contenuti che tu gli vado innanzitutto il chat è un prodotto elimpia cioè la combinazione della realtà viene fatta una volta all'inizio poi certo puoi cambiare la frequenza puoi cambiare il prezzo sappiamo che la realtà il 90% non sia magari non ha capito poi può cambiare nel tempo puoi mandare una survey dicendo va bene via puoi fare quello che volevo rimarcare che è un canale push quindi di delivery non è tirato dall'utente ma è spinto ed è ideale effettivamente per spugliare i contenuti molto francamente nella mia esperienza non hanno al di là dei sabburi che mi guardo per ragione di lavoro che io uso sono qua l'editoriale io tec crunch marketing guardian me le leggo me le leggo sull'esterno e clicco vado su siva su un carto di facebook si apre la pagina di bagno dentro il gabbiato del trafismo nel caso di telegrappato sul sito ok la profilazione poi può essere integrata con la profilazione diciamo nell'utente però questo allora richiede un livello di di un livello di autorizzazione ulteriore da parte del giornale chiedi se bisogna ti permesso di mandare i contenuti e chiedi quali preferisci e con che frequenze dopodiché puoi creare degli elementi di database e match non so se hai fatto una pagina facebook o cosa di genere questa parte obiettivamente è reale ma è un periodo dal canale c'è la tua pagina facebook di match crash e lì vengono pushate le notizie non lo vedete no ma la pagina è un esempio cioè la realtà è questa immaginiamo che in qualche modo poi questo bottone che può essere sul sito il tuo email la comunità facebook riscinde dalla pagina e ti manda direttamente dentro a messenger e ti dice ah questa è hai detto il chat di benvenuto in chat di The Crunch possono andare a start start l'autorizza e poi dopo inizia la conversazione in questo senso ricorda un po' il meglio l'email marketing perché ci sono assolutamente io volevo chiedere tu hai detto che i chatbot che hanno funzionato più come quelli editoriali adesso sono diffusi di tutti quelli editoriali ma solo a livello italiano c'è una tendenza italiana o è una tendenza proprio mondiale molto onestamente non lo so in Italia io mi riferivo all'Italia sinceramente a me questo è la realtà a livello di quello che si vede si sente certo gli Stati Uniti vede cose molto più complicate soprattutto da un punto di vista ma anche di economia di stecola di stecola in Italia raste quindi sinceramente non ho un dato di quali sono comunicazioni sicuramente molto più rispetto di però di tematiche la nostra esperienza è che ad esempio dove abbiamo in un certo il settore degli hotel noi c'è un interesse però di dire il mercato di dare soluzioni già fatte e anche più lente a livello territoriale c'è una comprensione profonda del prodotto perché ci sono 20 anni di licitare le spalle di si di centro quindi ci sono dei temati magari ma non devi spiegare nulla e sinceramente mi sembra che chiunque di noi potrebbe farmi stare con questa abitudine per leggerlo senza il cio mi cazzo la parte di parlare di piattaforme che sono di CMS che ti permette di utilizzare i chat allora ci sono di piattaforme come la nostra che permettono di creare un chat in pratica definirne la logica e dall'altra parte il dizionario che permette un dialogo in generale quindi non c'entra con la parte data la parte data si prese pure che sia quella del cliente nel caso specifico tu hai un sito di calcio dopo di che nello specifico mentre la base dati è molto importante per la realtà come per esempio di e-commerce dove tu hai un catalogo nel caso delle news la cosa più importante è che man mano che arrivano che sono pubblicati arrivano a lanciarlo quindi non è tanto un catalogo quindi in realtà ha due realtà da un lato vai a catalogare le keyword cercando alla meglio di usare i dettagli che poi diventano gli elementi possibili in acquario però la cosa che serve di più è legare pubblicamente degli RSS feed tanto per me è chiaro al processo di publishing del sito la cosa ad esempio dei canali di preferenza non dico nulla di nuovo ci sono già per la frequenza magari devi dare a carico la regazione il fatto che sia questo il canale delle 5 maggiori notizie del giorno queste sono le brecchiniose non è nulla di nuovo l'unica cosa su cui magari abbiamo verificato c'è un certo se si mette ma parliamo di quotidiani è le brecchiniose cioè veramente loro vogliono andare in tempo reale fuori del tempo reale se non hai l'ansia noi lo abbiamo l'ansia come i clienti ci sono che ci sono dopo accertati questo richiede una serie di operazioni macchine che sono un pochino più close sono tali poco qualche giorno ho chiesto una chatbot mi sembra un caso un pochino evidente non sono un pochino è utile è un pochino ovviamente per la prima che risponde la teleponata adesso un po' parlo tramite chat le domande sono le risposte sono tra le totes potrebbe essere un pochino che risponde altre domande dei venti del venti del genito o che ci potrebbe essere nulla adesso per la tua esperienza questi sono casi di successo oppure solamente una situazione che si sta testando che il chatbot poi esistemente subito il cliente finale possiamo fare sempre operatore oppure la mia esperienza la nostra esperienza dividiamo due case PME ma veramente tutte le mie aziende parliamo del settore alberghiero che abbiamo affrontato con una certa organicità diciamo la base di portarmi in parte dell'estudianese e a rinini e allora su questo abbiamo pacchettizzato delle cose molto aggressive molto semplici c'è stata una buona rispondenza da parte albergatore che naturalmente nel periodo che si dice adesso che ci si aggiornano si investono eccetera poi non potre non ci siamo più a segnale però stiamo parlando di una roba dove praticamente non c'era prima realmente il sistema di gastro di serva qualcosina sul sito magari lì la sensibilità notevole è quella che il sito viene ancora percepita come qualcosa dove portare traffico fissa che hanno moltissimi albergatori come quella che su cui riesco a portare a casa qualcosa che non mi passa attraverso un buco con gli altri grandi aggregatori che mi chiedono per cercare se vi a dire sono molto molto questa è la dinamica viene percepita non è un mercato ricchissimo molto fra la trattativa cioè diciamo da un lato non è un mercato che basta che sia solo le stesse a essere da un lato è un mercato di a livello di un carattino superiore noi non abbiamo tentato un approccio diretto abbiamo approcciato dei possibili partner cioè le realtà che avevano chi hanno scusate piattaforme di tutto genere e comunque siamo in tentativa perché non andiamo direttamente da cliente preferiamo andarci dicendo come facciamo questo e non sono in grado di dirlo questo è un po' più lungo grazie grazie